Sport e solidarietà, un binomio perfetto. Si è rinnovato questa mattina presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara, infatti un progetto di collaborazione fra l'associazione L'Abraccio dei Prematuri ed il Pescara Calcio con la vendita delle uova di Pasqua bianca azzurre. Il ricavato dell'iniziativa denominata Pasqua Regala un uovo solidale sarà utilizzato per sostenere le famiglie di bambini prematuri e non sia a livello umano sia materiale con l'acquisto di prodotti di prima infanzia latte e pannolini sia economico per il sostegno e per l'alloggio delle mamme e dei bimbi ricoverati distanti da casa. Inoltre verrà finanziato l'acquisto di materiale macchinari per i reparti di neonatologia degli ospedali di Pescara e Termo. Sport e solidarietà un binomio come si suol dire perfetto. Bellissimo sì, ringraziamo Dio proprio per questa unità. Noi siamo presenti in neonatologia, siamo convenzionati con l'ospedale di Pescara e viviamo periodicamente, ogni settimana siamo proprio nel reparto come genitori, come consulenti eccetera. Nel momento in cui qualcuno volesse entrare a far parte dell'associazione, le porte sono aperte a tutti, non soltanto genitori che vivono l'esperienza della prematurità, basta contattarci. Quindi c'è una pagina Facebook, ci siamo noi, insomma mettiamo anche in reparto, insomma ci sono i nostri contatti.